Il maltempo non dà tregua, le temperature hanno subito un brusco calo, stasera torna la neve. Sono previste precipitazioni in tutto il nord a causa di una perturbazione in arrivo dall'Europa centrale. In particolare il maltempo investirà il nord-ovest e la pianura padana. Da domani sera è prevista anche la pioggia, i disagi importanti si sono verificati soprattutto in provincia. La vallata più colpita è stata la Val d'Arda, mentre a Bettola il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole che, tempo permettendo, dovrebbero riaprire lunedì. Anche il ghiaccio ha provocato disagi, sono stati diversi gli interventi del 118 per soccorrere persone scivolate o cadute in strada. Il freddo non aiuta le persone con problemi al cuore o malattie debilitanti a cui è sconsigliato uscire nelle ore più critiche.